Ciao a tutti ragazzi, membro di questo nuovo video di La filosofia tiene svegli. Oggi vi voglio raccontare una storia. Questa è la storia di Victor, il ragazzo della Veyron. Allora, Victor era un ragazzo che nel 1798 venne trovato nella regione francese della Veyron da dei cacciatori in un bosco. Questo ragazzo era un ragazzo selvaggio, era un ragazzo nudo, incapace di parlare, hanno stato completamente selvaggio. I cacciatori quindi lo trovarono e lo portarono nel loro villaggio. Però dopo qualche giorno Victor scappò. Dopo due anni, nel 1800, Victor, ovviamente non si chiamava di natura Victor, venne chiamato Victor. E questo ragazzo appunto, due anni dopo, nel 1800, fece spontaneamente ritorno alla casa in cui era stato portato nel villaggio. Quando fu trovato la prima volta nel 1698 si stimò avesse circa 11 anni, non si sa bene, probabilmente era una stima. E quindi forse il 1800 aveva circa sui 13 anni. Il 1800 quindi venne riportato a Parigi. Parigi era un centro di grandissimo fermento, oltre che politico, ovviamente anche culturale, filosofico e scientifico. Infatti nel 1799 a Parigi era nata la Società degli Osservatori dell'Uomo. Che cos'è questa società? Beh, era un centro appunto culturale scientifico in cui moltissimi scienziati, filosofi, ma soprattutto medici, si organizzarono per studiare l'uomo da un punto di vista naturale. Ovvero si operava quella naturalizzazione dell'anima. Dobbiamo studiare l'uomo, dicono, in modo scientifico. La scienza si è occupata sempre del mondo naturale, si è occupata degli astri, ma non si è occupata della cosa più vicina e più importante, appunto l'uomo stesso. E quindi noi dobbiamo farlo partendo da una prospettiva, diciamo così, filosofica di matrice empirista, dell'empirismo inglese, e del sensismo francese. Ovvero si riteneva che le facoltà morali, intellettuali, cognitive, quelle facoltà appunto mentali dell'essere umano, potessero essere spiegate in termini di tutte le esperienze che l'uomo ha fatto. Quindi le nostre idee non sono altro che, secondo questa prospettiva filosofica, non sono altro che il frutto di un'esperienza, di un'esperienza sensibile che ha sviluppato poi in noi l'idea di quell'oggetto, l'idea di quell'esperienza. E attraverso la combinazione di idee semplici si sviluppavano le idee complesse, quindi un pensiero astratto e complesso. Questa è la prospettiva filosofica da cui partiva la società degli osservatori dell'uomo. E la scienza dominante dell'epoca era la medicina, perché appunto la medicina operava la naturalizzazione dell'anima. E noi dobbiamo studiare il pensiero umano come una facoltà del cervello. In particolare è famosa questa citazione di Cabani, medico del tempo, che dice Beh, così come il fegato secerne la bile, il cervello secerne il pensiero. Quindi dobbiamo avere questo atteggiamento, questa prospettiva naturalistica. Allora, questo è il punto di partenza. Victor divenne subito un caso emblematico, un caso filosofico. Cioè, questi scienziati avevano la colina in bocca. Perché? Perché Victor rappresentava l'uomo naturale. E il dibattito sull'uomo naturale, sul rapporto tra la natura e la cultura dell'uomo era presente in tutta la storia dell'umanità e della filosofia. Ma appunto, pensiamo ad esempio al dibattito illuminista, pensiamo ad esempio a Rousseau. Rousseau che appunto aveva costruito, poi ovviamente venne semplificata la sua posizione, però quella che possiamo definire il mito del buon selvaggio. Ecco, Rousseau dice, vabbè, all'uomo lo stato di natura è in una condizione di soddisfacimento dei suoi bisogni. Non ha bisogni che vanno oltre le sue capacità di soddisfarli, si accontenta di mangiare e di avere rapporti sessuali occasionali, sporadici. Vive in modo isolato, non si fa a piani, non ha ambizioni. E appunto, in questo modo, è una condizione di tranquillità e staticità. Mentre invece la civiltà, da un lato, Rousseau denuncia il fatto che la civiltà produca una corruzione nelle disposizioni morali dell'uomo, una degenerazione dell'uomo e della sua condizione idilliaca naturale. Dall'altra, però, anche Rousseau riconosce che l'uomo sviluppa le sue facoltà mentali, spirituali, morali, soltanto uscendo dello stato di natura. Quindi in realtà, appunto, non bisogna semplificare la posizione di Rousseau. Certo è che appunto il mito del buon selvaggio era entrato a pieno titolo all'interno del dibattito filosofico del tempo. Ma come ho detto, è un dibattito che ha da sempre, diciamo così, radici all'interno della storia del pensiero umano. Pensiamo ad esempio a lo stesso Federico II. Federico II, sovrano illuminista, sovrano illuminista, sì. Sovrano illuminato medievale, appunto, l'imperatore del regno delle due Sicilie, che aveva affidato delle balie il compito di, diciamo così, allevare dei bambini senza mai rivolgere loro la parola. Questo perché appunto si voleva vedere, lui voleva vedere quale fosse stato il linguaggio naturale dell'essere umano. Era forse il greco? Era forse il latino? Era forse l'ebraico? Beh, capiamo che appunto era una domanda malposta. Questi bambini non svilupparono mai un linguaggio. E sviluppavano appunto dei deficit cognitivi, intellettuali, no? Lo stesso accadeva per Victor, era accaduto per Victor. Infatti Victor veniva considerato un ritardato dagli studiosi del tempo, e in particolare la figura di Pinel è interessante. Allora, Pinel è il fondatore della psichiatria, è colui che durante la rivoluzione francese liberò i cosiddetti folli dalle catene e istituì il manicomio, istituì il manicomio, istituì la scienza psichiatrica. Questa figura molto controversa, analizzata da Michel Foucault nella sua opera la storia della follia in età classica, di cui magari parleremo un'altra volta. Ma appunto è una figura molto controversa. Per Pinel, infatti, Victor e le sue condizioni di deficit cognitivo, e l'incapacità di parlare, era dovuta a un danno organico. Per Victor, no scusami, per Pinel, Victor appunto aveva avuto un danno organico nel cervello, e quindi questo aveva portato ai suoi deficit. Ed è per questo che probabilmente venne abbandonato dai suoi genitori nel bosco. Quindi questa era la spiegazione di Pinel, che quindi riteneva che Victor dovesse essere messo nelle case, ad esempio nella scuola per sordomuti, che era nata appunto a Parigi, o ad esempio appunto negli ospedali psichiatrici. Perché il suo caso era irrecuperabile, il danno organico era permanente, non c'era niente da fare. Dall'altra parte però abbiamo un allievo di Pinel, il medico Jean Itard. Jean Itard invece si oppone a questa diagnosi, diciamo così, e dice, no, secondo me invece Victor, le sue condizioni sono dovute a un'assenza di un rapporto educativo con la civiltà che Victor non ha avuto, e quindi Victor non ha sviluppato il linguaggio, le sue capacità sono meno sviluppate per questo motivo. E quindi lo scopo della missione educativa di Itard diventa quello di reinserire Victor nella società, nella civiltà, insegnare a lui il linguaggio, insegnare a lui la morale, e sviluppare in lui le facoltà mentali e quindi reinserirlo a pieno titolo nella società e nella civiltà francese dell'epoca. Questo è interessante perché appunto Itard realizza un rapporto totale, non soltanto un rapporto di medico-paziente o di maestro e allievo, ma era un rapporto totale, un rapporto quasi simbolico che rappresentava lo scontro tra selvagerie, quindi la selvageria, la naturalezza, la selvaggità, l'animalità di Victor e la civiltà, la scienza, la filosofia della civiltà appunto francese, che aveva il compito, la missione, lo scopo di educare Victor, di farlo uscire allo stato di natura e di mostrargli tutte le ricchezze e le bellezze della civiltà. Appunto questo rapporto educativo totale, Itard si sforza molto e venne riconosciuto anche da Maria Montessori come il padre in un certo senso della pedagogia. Maria Montessori andò in Francia, scoprì questo rapporto, scoprì le memorie di Itard e venne riconosciuto in questo senso come il padre della pedagogia, proprio perché Itard sviluppò dei metodi pedagogici in cui cercava di sviluppare le facoltà linguistiche e intellettuali di Victor. Come abbiamo detto prima, i presupposti filosofici della società degli osservatori dell'uomo erano presupposti sensisti ed empiristi, quindi Itard vuole innanzitutto risvegliare i sensi del ragazzo, risvegliare le sue facoltà sensoriali. Questa storia viene raccontata molto bene da un film del 1970 chiamato Il ragazzo selvaggio di Truffaut e appunto nel film si mostrano queste scene ad esempio nella vasca da bagno in cui Itard dice bene questa vasca da bagno con l'acqua calda risveglierà la sensibilità acuta dei tuoi sensi e quindi anche un'acutezza del pensiero e del ragionamento. Questa era la prospettiva. Tuttavia dopo anni di insegnamento Victor non acquisì mai un linguaggio verbale. Perché? Perché come sappiamo noi oggi appunto c'è un limite per l'età entro cui il bambino deve sviluppare il linguaggio. Altrimenti appunto il cervello si struttura in un modo tale che l'acquisizione del linguaggio oltre credo vado a memoria il settimo anno di età non è più possibile. Ed è interessante questo perché appunto il linguaggio è quella struttura cognitiva e culturale che va appunto a strutturare a livello biologico e cerebrale il nostro cervello. No? Noi siamo modellati dal linguaggio modellati dalla cultura entro cui siamo inseriti. L'assenza di questo contesto come riconoscevamo anche Itard aveva portato ai deficit cognitivi intellettuali e linguistici di Victor. Victor tuttavia riuscì a sviluppare un linguaggio dei segni e riusciva ad associare parole, concetti a classi di oggetti ad esempio. La scena del film è molto bella, il film è molto bello proprio perché riprende le memorie di Itard e mostra delle scene anche molto commoventi. La scena del latte. Victor alla fine dopo numerosi sforzi pronuncia la parola latte. Ora probabilmente in realtà Victor non sviluppò una diciamo così una cognizione semantica del concetto della parola latte ma semplicemente ripetè in modo sintattico il suono e riconobbe che l'associazione di questo suono con l'oggetto quindi con il bicchiere di latte aveva avuto successo. Questo è uno di quegli esempi appunto dove si cerca di dimostrare come il bambino potesse o no apprendere un linguaggio. E' interessante il film perché il film del 1970 perché allora innanzitutto vabbè vi cito altre due scene molto molto belle. In una scena si vede come il bambino appunto dopo tantissimi tentativi di imparare il linguaggio frustrato della sua incapacità lascia cadere qualche lacrima sulle lettere che Itard gli aveva costruito. Immaginate le lettere da gioco che noi ad esempio negli asili nido per i bambini vengono fatte queste lettere. Ecco Itard fu il primo a costruire queste lettere proprio in legno per insegnare a Victor a parlare. Questa scena molto commovente dove Victor bagna queste lettere con le sue lacrime di frustrazione per aver deluso il suo maestro. Un'altra scena invece molto bella è quando Itard vuole far sviluppare a Victor un senso morale e quindi mette alla prova il senso morale di Victor. Punisce Victor senza nessun motivo. A questo punto Victor si ribella e quindi Itard gli dice bravo hai capito hai fatto bene ribellarti perché la mia punizione è una punizione ingiusta quindi tu hai capito che la punizione era ingiusta e quindi ti sei ribellato giustamente. Quindi questo rapporto educativo anche ormai quasi no di padre figlio natura e cultura è su tantissimi piani questa questa relazione si si gioca ed è molto bello molto affascinante. Tuttavia oltre alla dimensione emotiva del film il film ha anche un significato diciamo così etico e politico perché film del 1970 quel rapporto tra natura e cultura che era stato dibattuto per tutta la storia durante l'illuminismo e poi appunto nel 70 negli anni 60 70 era un tema centrale perché perché negli anni 60 70 e soprattutto all'interno delle scienze sociali americane si era sviluppata la cosiddetta corrente del culturalismo ovvero gli allievi della scuola antropologica di Boas avevano sviluppato questa visione per cui in realtà era sbagliato parlare di natura umana ma tutte le nostre condizioni dall'adolescenza alle nostre facoltà cognitive e tutto quanto era dovuto solamente a fattori culturali. Ora questa posizione scientifica e filosofica era utilizzata strumentalmente per la rivendicazione dei diritti e pensiamo alle rivendicazioni dei diritti del movimento femminista o del movimento afroamericano per i diritti della popolazione afroamericana. Ecco quindi per negare appunto che ci fosse una differenza tra uomo e donna tra bianco e nero si negava lo stesso concetto di natura umana si diceva tutto è costruito culturalmente. Come direbbe Foucault tutto è frutto di un discorso sociale che costruisce queste differenze e quindi il culturalismo americano appunto giocava in questo ruolo in questo senso ed è in questo senso che appunto il film gioca anche un ruolo da un punto di vista di polemica nei confronti di il rapporto tra natura e cultura perché ad esempio interessante ad esempio nel film ma anche nelle memorie di Tar si mostra come uno degli scopi di Tar è quello di far sentire a Victor nuovi interessi e nuovi bisogni quindi la civiltà sviluppa nuovi bisogni. Ecco appunto un elemento che vieneva criticato ad esempio negli anni 60 pensiamo a Herbert Marcuse che critica la società capitalistica consumistica perché produce dei bisogni sovraimposti all'individuo e lo rende schiavo del sistema e quando in realtà l'individuo appunto potrebbe essere soddisfatto senza dover appunto essere sottoposto a questa logica del dominio del bisogno ma semplicemente realizzando se stesso in modi diversi. La conclusione ovviamente del rapporto terapeutico tra Victor e i Tar è quella che appunto non esiste l'uomo naturale il dibattito filosofico a fondo all'inizio dell'ottocento arrivò a questa conclusione Victor non può essere preso come esempio dell'uomo naturale perché c'erano alcuni che dicevano ah vedete il vostro buon selvaggio di Rousseau non ha nessun fondamento Victor non è un buon selvaggio Victor è una bestia è un animale tutt'altro che buon selvaggio tutt'altro che nobile la sua figura però dall'altra parte invece si arrivò alla conclusione che non aveva senso proprio porre la domanda su come è fatto l'uomo naturale proprio perché la natura umana è intrinsecamente culturale intrinsecamente sociale l'io sviluppa la propria capacità la propria identità la propria moralità sono in rapporto a un altro e se se manca questo altro appunto non si sviluppa nemmeno il pensiero e le capacità tipicamente umane e sociali questa è la conclusione appunto della filosofia e del rapporto educativo di Victor del caso filosofico di Victor che abbiamo detto rimane uno dei nodi centrali del dibattito appunto agli anni 70 e che ancora oggi no risulta essere uno dei misteri appunto dell'uomo no quanto è naturale quanto è culturale questo comportamento e sicuramente ne parleremo in modo approfondito nei prossimi video trovate tutto nella playlist natura cultura evoluzione umana e noi ci rivediamo un prossimo video ricordatevi che la filosofia tiene svegli ciao ciao ciao